E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale Oggi ragazzi, cosa super particolare, andrò a far giocare mio fratello con il mio account E li farò arrivare a 4000 coppie raga, perché lui è veramente mostruoso su Clash Royale Quindi ragazzi, oggi non gioco io, giocherà mio fratello Lasciate un like per portare l'infortuna Detto questo raga, io passo la linea a mio fratello e noi ci si vede in un prossimo video Ciao ragazzi Eccomi qui ragazzi, sono Tommaso il fratello di Davide E oggi siamo nel suo account per provare ad arrivare a 4000 coppie Questo è il deck che gli ho consigliato io Purtroppo le carte sono di livello basso Però io con questo deck mi si trovo molto molto bene Quindi se lo volete anche voi, eccolo qui Ve lo lascio un attimo Direi di non perderci in chiacchiere e di andare subito a giocare Allora Guardiamo fuori Livello 9 Già un livello inferiore a noi Direi di partire con gigante elettrico Difensivo Allora, ti dirò A me non è che Non è un problema quello Non è un problema perché Per me mi può fare anche la terra Però ora lui si deve difendere Ok, ho capito il deck Ho capito che il deck ha Però io gli faccio molti item In entrambi le torri Va bene, va bene Lì la Tesla è un po' sacrificata Ci può stare Le sue torri sono entrambi a poca vita Una la vorrei fare con una Fireball Easy Però non lo farò Ok Ci può stare Ci può stare Se metterò una hit Ancora me Ok, ok Domatore di cinghiali Nella parte di destra Questi non mi preoccupate E' let's go Due torri fatte Qua faccio così Così Il Gran Cavaliere Non so come difendermelo Devo cipare Ok Ho cipato bene Guardate lì la torre Guardate lì la torre E... Ragazzi ho vinto Sono troppo forte Troppo forte Troppo forte Più 29 coppe E andiamo A 3900 3900 71 In teoria Un'altra battaglia Si arriva alle 4000 E non faccio niente Comunque ragazzi Io Avevo intenzione Di fargli anche un altro deck Ma ci penseremo dopo E andiamo a fare Un'altra battaglia Intanto vi ricordo ragazzi Di lasciare un bel like E un'iscrizione Mi raccomando Che tra poco D'alda arriverà 15.000 iscritti Ok lui parte con un boia Mi va benissimo così Buttaci anche Chi Chi Mi va benissimo Qua mi ci butterà Gli scherchi Ragazzi ormai Ormai Sono Troppo esperto Anche questo livello 9 Quindi siamo anche avvantaggiati Tronco Non l'ho capita E ora ragazzi Si attacca Si attacca E lui si difende Con la principessa I danni ci sono La torre si è fatta E direi di ripartire Nella torre Di destra Quindi lì La si arricati E io Faccio tanti danni Con la torre Tesla difensiva Guardiamo lui cosa fa Io nel caso C'è l'orto Di scherchi Che Uso Uso sì Ho fatto bene Perché ora Lui ha spremato la tronco Che doveva buttarli Nei barbari scelti Pur di difenderli Ci buttò anche Una scala Almeno ragazzi Abbiamo fatto Un atto Due torri Lui ne ha fatte 0 Stiamo giocando Alla perfezione Fireball Per togliere Il tutto Qua Nessun problema Barbari scelti E Noi Ci abbiamo Un botto di miserro Rispetto a lui Che L'ha spremato Un bel po' Vabbè Tanto ormai La partita È vinta Proviamo a fare Le tre corone Non ci sbaglio Va bene ragazzi Vinta anche questa Mi sembra Che si arriva Baule leggendario Incredibile Baule leggendario E 4.000 coppe E 4.000 coppe La provocazione Bellissima E raga Un baule leggendario Baule leggendario Non so se aprirlo Apriamo in un prossimo video Se lasciate Se lasciate 100 mi piace A questo video Ragazzi Vi porterò Nel mio account E se ne verranno Di belle Ve lo posso assicurare E io Direi di andarmi A fare un'altra partita 4.000 coppe Spaccate Però Non mi accontento Voglio farlo un altro Il livello 10 Va bene Non ci può stare Il boscaio Ha fatto un botte di anni Però Non ci sa Un bel attacco Dalle entrambe le parti Circover Velocemente La scarica Tac Lì mi fa tanti Mi fa Mi tenka O ogni cosa Però Però Proviamo così Proviamo così La tesla La devo sacrificare Per forza Mi fa una bella hit Era per forza Per forza Di quasi Ok Vedeva Messe il boy A una volta Di destra I rovi Morti Qua Faccio Odiosi La scarica Aspetta A buttarla Appena posso I ragazzi Siamo messi bene Siamo messi bene Posso fare lì così Posso fare Così Ci siamo difese anche questa volta Guarda Fammi pure la torre Fammi pure la torre Fammi pure la torre A me non mi prega niente Qua No Ok Ok Mi chiamo La caracanola Gata Io ti vado nel decreto Riu centrali E poi Oh cazzo No non mi sono accorto Non mi sono accorto Dio Non ho capito Perché ha tirato Sto razzo Inutilmente Tesla In difesa Vabbè raga Prima sono stato Un coglione Prima l'ho persa La coglione Lui sta sprando Di sir Se non mi metto qualcosa Mi sa che ha quitato Perché Non lo so Infatti raga Ha quitato Non butta niente Noi Non si va a vincere Questa partita Vabbè raga Penso di essere Rirrivato a 4.000 coppie Guardiamo Quanto è la propria uscita 30 4.001 Mi sembra Sono così 4.001 coppie Ragazzi Io Visto Visto che c'è la chiave Del baule Vi apro Questo baule Leggendario Ma voi Dovete lasciare Un bel like Usiamolo La chiave Del baule Che leggendario Ci dà Attenzione Mastinolabico 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 Per noi Ragazzi Tutti sotto Nei aumenti Hashtag Mastinolabico Per noi Tra l'altro Vi mancava Così a casa E va bene ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E mettete la campanella Su tutte Importante 100 like Vi porto sul mio account Che ho ben 5400 coppie E Lì si hitteranno Le 5500 Quindi ragazzi Io vi mando Un saluto Da Tommy E' tutto Bella raga Ciao Ciao